Nella nostra regione il rischio di desertificazione entro il 2100 è elevato a causa di potenziali siccità prolungate sia meteorologiche che idrologiche, evidenti le conseguenze sull'agricoltura e sulla produzione di energia da idroelettrico tuttora prima fonte rinnovabile del territorio. E' quanto emerge in occasione della giornata mondiale per la lotta alla desertificazione di ieri da una ricerca dell'Università d'Annunzio che ha analizzato le portate dei fiumi, le precipitazioni e le temperature a partire dal 1985, determinando le variazioni passate e la ricerca ha posto le basi per delineare i cambiamenti futuri fino al 2100. Uno dei relatori, il professor Piero Di Carlo. Allora noi abbiamo analizzato le portate del fiume Pescara e le abbiamo messe in correlazione con l'aumento di temperatura e la diminuzione di precipitazione. Ciò che viene fuori sia nello storico ma nelle proiezioni future è una diminuzione enorme delle portate del fiume, qualcosa che già osserviamo con i dati storici, ma le proiezioni al 2050, al 2100 sono ovviamente allarmanti perché se il trend è quello che stiamo osservando attualmente, le diminuzioni saranno così consistenti da mettere a rischio tante delle nostre attività che sono quelle agricole, la produzione di energia elettrica, perché l'Abruzzo ancora oggi ha come la prima rinnovabile la produzione di energia elettrica dall'idroelettrico, ma anche l'uso civile delle acque. Quindi l'acqua è un bene primario che dobbiamo tutelare sotto tutte le forme. Se pensiamo, prosegue il professor Di Carlo, che il grosso di chi scappa dal cosiddetto terzo mondo sono migranti climatici, fuggono dalle zone del Sara perché vedono il deserto avanzare sempre di più. Quindi loro scappano proprio da quello, dalla mancanza di acqua, dall'avanzata del deserto. Se non si inverte la rotta ovviamente piano piano tutto ciò arriverà sempre più verso il sud d'Italia e se non si prendono provvedimenti drastici e immediati si rischia che tutto ciò riguarderà molto presto anche noi. Insomma, tra qualche decennio l'Abruzzo potrebbe, incrociando le dita, diventare quasi come un deserto? Allora, noi speriamo di no. Le proiezioni future ovviamente di questi modelli che abbiamo applicato hanno anche delle incertezze, ci mancherebbe, però danno la tendenza, ciò che potrebbe succedere. Quindi ovviamente sempre quel principio di precauzioni ci dovrebbe spingere a stare attenti a tutelare il nostro ambiente, a tutelare le acque, quindi ridurre assolutamente gli sprechi ma fare quella transizione veramente immediata per ridurre il riscaldamento globale e tenere le temperature al di sotto di un grado e mezzo. Altrimenti purtroppo le previsioni poi potrebbero avverarsi come abbiamo visto in passato se pensiamo che il Nobel dato a Manabe e a Selman qualche anno fa, proprio sui cambiamenti climatici hanno visto che le loro previsioni fatte negli anni 70 e negli anni 80 si sono avverate.